C'è, è più brutto, è più brutto WhatsApp, è più brutto tutto, però... C'è, è più brutto, è più brutto WhatsApp, è più brutto tutto, però... Babbo, sto sentendo a Levi, senti. Villa. Villa. Babbo, sono con l'hot spot di Matteo e sono a scuola. Vi volevo chiedere se per favore mi facevi la buona... Sono a sentire un festival che c'è qui a Giosina, c'è un monte di gente che canta. Babbo, tutto a posto, Villa e la Claudia che sto tenendo sotto controllo, Enrico, siamo tutti bene, siamo a ascoltare la musica, questo è Riccardo. Mi conosce, hai il cocco? Sono il figlio di Verona, il cocco. Amore, ma la porta era chiusa a chiave, chi l'ha chiusa? Buongiorno, Babbo, la scuola è chiusa, sì che noi siamo... Perché mi ha mandato la foto e gli ho fatto... Ma il libro è di mio Babbo. Cioè, io ho detto, è di mio Babbo, non solo perché c'è scritto il nome e cognome, ha fatto, cioè... Nonna Maria ha boccato uno scalino e si è sfracellato, tipo, in mezzo d'occhio e è qui con me adesso. Babbo, ma noi siamo usciti, la porta è si è chiusa a normale. Babbo, ma noi siamo usciti, la porta è si è chiusa a normale. Babbo, no, è si è chiusa la... Sì, è chiusa la porta. Comunque se, tipo, il Galaxy 6 o il Galaxy 7 costano meno, preferisco quelli, eh. Cioè, ho visto la pubblicità, ho visto che il 7 con la cosa... Chiacchiera. Ah, io? No, dai, scriviglielo. Dai, è tu figliolo, eh. Mi è arrivato un messaggio che dice sono stati detatti 6,25 euro per rinnovamento a fonte dei 13,81, ma quei 6,25, se... Mi è arrivato un messaggio che dice sono stati detatti 6,25 euro per rinnovamento a fonte dei 13,81, ma quei 6, cioè, ne hai messi 5, se... Io non so cosa ti sia successo, di buono, però ti fa male stare in montagna. Io non so cosa ti sia successo, di buono, però... Io non so cosa ti sia successo, di buono, ma che sia successo, di buono, ma che sia successo, di buono, ma che sia successo, 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 ma che Grazie a tutti.